Eccoci, eccoci, eccoci qui. Allora iniziamo subito partendo dagli indici come sempre perché situazione interessante in ottica multi day perché volevo fare delle considerazioni però per quanto riguarda il nostro trading che solitamente facciamo sul time frame a 5 minuti e per quanto riguarda l'S&P sul Nasdaq l'unico trade che secondo me è interessante è un long che facciamo adesso sul Dow Jones, l'ho visto all'ultimo, guardate entro long da qui sul Nasdaq e sul Dow Jones, solo con 3 ho sbagliato, vabbè, aspettiamo un attimo, l'unico livello secondo me interessante è questo, se ci fa qualche punto al rialzo fino ai massimi precedenti bene altrimenti usciamo. Come detto non ci sono molti trade quest'oggi perché vedete che la volatilità è veramente molto bassa, i prezzi continuano a rimanere all'interno di questa zona, all'interno di questo range di prezzo su S&P 500 compreso tra i 4.999 e i 4.994, quindi non usciamo da qui, pochi volumi e quindi per il momento non abbiamo delle occasioni chiare, anche perché non sono entrati neanche dei volumi professionali oggi su S&P 500, sul Nasdaq sì perché essendo il Nasdaq l'indice insomma su cui tutti stanno puntando adesso, lì c'è sempre movimento, ribasso importante, ripreso, riassorbito tutto, riassorbito completamente come potete vedere qui, siamo tornati sui massimi precedenti ma nei giorni dove non ci sono volumi, scusate ecco qui, che cosa succede? Che il trend non è lineare, non ci sono dei segnali chiari, io ho provato uno long sul Dow Jones per vedere se riesce a recuperare il Nasdaq sostanzialmente, più che un trade sulla direzionalità. Per ritornare sui massimi ci sono 50 punti, il Nasdaq li ha fatti alla grande ma il Dow Jones no e quindi su un piccolo test che ho visto su time frame a un minuto proviamo questo long, proviamo questo long, l'ho fatto anche sbagliando l'esposizione un po' troppo bassa, siamo più tranquilli, sappiamo che lo stop loss andrà insomma sotto questa zona qui, abbiamo un 20 punti di stop, 25 e 50 dei target, ecco il target è questo qui, 40 punti, vediamo se inizia a spingere un pochettino, siete entrati? Siete long? Non siete long? C'è stata una bella reazione, c'è stata una bella reazione, vediamo se prosegue oppure no, un giorno di lateralità può fare tante volte su e giù stare qui anche per un'ora intera, staremo a vedere. Allora, preso dice Stefano, ah perso scusa, no preso, perso, sì comunque oggi non è che ci sia molto molto movimento, piuttosto concentriamoci sulle analisi multi day, guardate qua abbiamo fatto già 10 punti anche se è poca roba, possiamo andare a commentare ovviamente quelli che sono stati i nuovi massimi su S&P 500 che ha raggiunto finalmente la soglia dei 5.000 punti, 5.000 punti, vado a tracciare anche, vado a inserire l'indicatore Icimoku per insomma far notare come abbiamo sfondato i massimi storici precedenti e continuiamo senza freni al target che ci avevamo dato ancora l'anno scorso, non so se ve lo ricordate, i 5.000 punti e il prossimo sono i 5.100 punti. Ora, questo trend rialzista sembra non finire mai, probabilmente sarà così o comunque diciamo che la spinta al rialzo magari potrà fermarsi per dare il via a qualche settimana di ribasso, però la tendenza rimane sempre la stessa. Quindi se dovesse iniziare un bel ribasso, magari lo possiamo rivedere in area 4.850, 4.825, ecco quella zona lì potrebbe essere un interessante livello di acquisto e anche in ottica multi day. Ecco qui, da questa zona qui. Vediamo il nostro mitico Dow Jones, ci ha fatto, vedete che lento che è, 13 punti al rialzo, non va, è sempre lì ferma, non si muove. Un po' lentino, si mantiene bello tonico invece il Nasdaq sempre là in alto sulla zona dei massimi. Nasdaq incredibile che va, si avvicina alla soglia, allora 17.800 è stato quasi raggiunto, però si avvicina a una zona chiave dei 18.000, 18.100, ecco quindi teniamo d'occhio quel livello perché da lì andiamo ad aggiungere anche l'indicatore di Cimoku, possiamo iniziare a valutare degli node, neanche a valutare dei trade short. Diciamo che da lì dobbiamo iniziare a fare molta attenzione, a posizionarci nuovamente long, multi day, perché? Perché comunque queste sono le estensioni massime, guarda il Dow Jones che torna giù, maledetto. Chiudiamo, questa la chiudiamo, 8 punti di perdita, 6, 7 punti di perdita, chiudiamo subito e aspettiamo, quando è laterale fa sempre così, quindi bisogna aspettare. Sono uscito, sono uscito. Stavo dicendo, quando raggiungiamo la soglia di 18.000, attenzione perché potrebbe iniziare anche qui una fase ribassista, però andiamo a vedere anche che cosa ci dice il forecaster perché potremmo sfruttare dei trade short, multi day, qualora chiaramente ci fosse l'occasione per farlo. Quindi andiamo a vedere il Nasdaq, la stagionalità del Nasdaq, eccola qui. Andiamo ad aggiungere anche, beh possiamo aggiungere anche il 30 anni addirittura e mostrare solo il 30 anni per farvi notare come negli ultimi 30 anni bisogna fare attenzione a che cosa? Al periodo che va dal 15 di febbraio all'8 di marzo circa. Perché vedete che negli ultimi 5 anni, se ci fossimo posizionati short avremmo guadagnato tutti e 5 gli anni, negli ultimi 30 anni invece no. Possiamo però aggiungere qualche altro tipo di stagionalità andando sul 10 anni, il 30 anni non è una stagionalità che solitamente uso molto perché mi sembrano un po' troppi. Però il 5, oh scusate, devo riprendere il periodo cercando di individuare quello che potrebbe essere insomma una fase ribassista. E vedete che sì negli ultimi 5 anni l'80% delle volte ma negli ultimi 10 anni possiamo già il 40. Quindi sempre attenzione a non soffermarsi solo sul grafico del forecaster ma andare a fare l'analisi più specifica possibile. Quindi vedete che negli ultimi 5 anni sì ma negli altri, negli ultimi 10-20 anni non abbiamo assistito a un ribasso così importante. Però secondo me potrebbero esserci delle occasioni, ricordando però che il Nasdaq è l'indice più forte di tutti gli altri, magari gli short li possiamo andare a vedere sul DAX. Andiamo a vedere cosa ci dice il nostro DAXettino. Qua sembra che il ribasso sia un po' più accentuato e infatti adesso andiamo a studiare anche il grafico del Germany 40. Andiamo fino al 15 di marzo analizzando anche le altre stagionalità quindi 7 anni, 10 anni, 15 anni. Neanche qui in realtà ci sono delle, insomma c'è una percentuale così importante come sembra. Proviamo a farlo un po' meglio, vediamo qui, oppure qui, perché cambia molto da giorno a giorno, dobbiamo cercare di individuare le zone più interessanti. Vedete che qua già cambia qualcosa. In ogni caso oltre a studiare con la versione normale grafico possiamo anche andare a usare la versione detrendizzata e comunque qui ci accorgiamo che statisticamente i prezzi da 16 di febbraio fino qui al 15 di marzo sono scesi. I risultati non sono, i risultati non sono incredibili come magari i long che abbiamo visto, vi ricordate, a luglio dell'anno scorso, però possiamo comunque dire attenzione perché i rialzi potrebbero finire. Ecco, quindi se andiamo a vedere il Nasdaq, ecco qua il Dow Jones che scende, abbiamo fatto molto bene ad uscire subito. Andiamo a vedere il DAX, eccoci qui. Allora il DAX è sempre su quella zona dei massimi, vado ad aggiungere anche l'indicatore di Cimoku, eccolo qui. Quindi, time frame giornaliero, continuo a testare questa zona, continuo a testare questa zona, andiamo, la evidenziamo in rosso. E secondo me è un giro almeno in area 16.700, poi se la soglia dei 16.700 viene rotta al ribasso possiamo anche rivederlo in area 16.400. Però, un giro da qui a qui sono comunque tre figure, un virgola 7% di ribasso. E quindi possiamo magari andare a sfruttare anche i time frame inferiori per valutare delle posizioni short. Come vedete però non ci sono ancora le conferme, quindi dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare, anzi qui per il momento vedo solo minimi crescenti con candele rialziste anche abbastanza importanti. Quindi, non è ancora tempo per shortare, ma teniamolo d'occhio. Il DAX, che secondo me è l'indice che soffrirà di più. Sto guardando se ci sono dei trade da fare, perché abbiamo il Nasdaq che non molla. DAOZONS invece proprio ha perso il supporto e sta scendendo. In ottica multi-day, quindi siamo in attesa del DAX per provare uno short. Target la linea Kijun, 16.700 e poi insomma i minimi settimanali importanti che troviamo qui. I minimi quindi della settimana del 14 di gennaio, 16.400. Ecco, quello potrebbe essere un altro livello interessante, secondo me. questo per quanto riguarda il DAX. S&P 500, stessa cosa, come detto prima, un ritorno in area 4800, 4825, ma non ci sono ancora le conferme, esattamente come sul Nasdaq, ma il Nasdaq io non lo shorterei nemmeno. Non lo shorterei nemmeno il Nasdaq. E quindi dopo aver fatto una breve carrellata dei principali indici azionari, possiamo andare a vedere innanzitutto anche le cose che volete voi, se avete degli strumenti che volete analizzare, se c'è qualcosa in particolare. Voglio, Paypal cade come una pera. Oh Antonio, questa è una domanda interessante, anche se in realtà noi Paypal la studiamo il martedì durante la sessione insieme a Pietro. Andiamo a vedere Paypal. Paypal ha pubblicato i risultati trimestrali, la trimestrale, proprio ieri sera e quindi oggi in, e quindi oggi apre a, oggi ha aperto a meno 8,70. A 8,70 io, no, a meno 8,70 più o meno, insomma a 58, a 58 circa io ho comprato le azioni Paypal, eccole qui. Però qui non stiamo parlando di Ichimoku, qui si parla di, ovviamente ci sono tante domande su Paypal, quindi io do, faccio un mio commento. Allora, Paypal è un'azienda solida, è un'azienda che continua a dare dei buoni risultati, quindi a livello fondamentale a mio avviso è sottovalutata. sta pesando ancora la vecchia gestione, quindi i risultati del nuovo CEO ancora non si vedono, ma diciamo che poi ne parleremo meglio anche martedì a livello di strategia e nel lungo termine, nel lungo termine perché nel breve termine è chiaramente ribassista, però nel lungo termine io vedo un'azienda molto molto interessante, al momento però parla anche chiaro la price action, insomma è solo short, però ecco su questo supporto io ho comprato, quindi mi aggiudico Paypal con un bel meno 81% dai massimi storici, ecco. Quindi ho Paypal da 58 dollari per azione, ora Paypal fallirà? Non credo proprio, potrebbe essere, se fallisce il mio investimento svanisce nel nulla, però ovviamente bisogna sempre diversificare, quindi in ottica di lungo termine è un'azienda che vale, so che vale, i risultati non sono stati strabilianti ma comunque sono dei buoni risultati a mio avviso e con le nuove diciamo idee del CEO per incentivare l'uso di Paypal, far spendere di più i 400 milioni di persone che la usano e insomma ha iniziato, ha pubblicato delle iniziative per insomma prendere dei crediti se lo usi eccetera eccetera, però lo vedremo martedì insieme a Pietro Origlia, insieme a Pietro Origlia andiamo ad analizzare bene il titolo, comunque ce l'ho da 58, in ottica trading non esiste nulla di long qui, non ci sono segnali long per il momento, probabilmente con Origlia siamo long, adesso non mi ricordo da dove, finché tiene questo supporto tra l'altro secondo me ci può stare ancora, però nel breve termine entrare adesso è direi che è un po' rischioso, ecco se ce l'avate già da prima allora gestite al meglio le vostre posizioni, poi se siete all'interno del gruppo di Pietro vi dirà sicuramente anche lui come va a gestire, però siamo su un supporto importante, nel lungo termine ho acquistato, nel breve termine io personalmente sono fermo. Il Natural Gas, Intel, ho parlato di Paypal però poi per tutte le altre azioni invece vi rinnovo l'invito al webinar del martedì, e ora sì, il Natural Gas, euro contro dollaro australiano dove siamo long, siamo molto interessanti anche a UDUSD, Bitcoin lo lasciamo fuori, il dollar index importantissimo lo andiamo ad analizzare così abbiamo un'idea di quello che sta succedendo sul dollaro, anche su euro dollaro siamo short, siamo short su gold, siamo short su NZDUSD, un po' troppo diciamo un po' troppo a favore di dollaro americano, abbiamo raggiunto un grande target su GBPIA ma secondo me può salire ancora, infatti lo voglio analizzare oggi con i CIMOKU, il buon petrolio che fa come sapete la strategia di CIMOKU per ESECION sul petrolio non è il massimo, l'ho detto tante volte e lo ripeto, qui è meglio studiare time frame settimanali, cot report e stagionalità, quello che stiamo facendo, infatti prima l'abbiamo comprata a 70,45, l'abbiamo venduta a 79, vorrei ricordarlo ovviamente avevamo anche altre posizioni 73,80, 75,50 una cosa del genere, abbiamo ricomprato a 72, io sono long da 72, per quanto riguarda i CIMOKU perché non è da utilizzare, perché il petrolio è importante saperlo, è uno strumento molto volatile e quindi non rispetta le nostre regole, quindi il petrolio con i CIMOKU si lascia perdere, si usano altri strumenti molto molto più funzionali, ok? In ogni caso a livello tecnico come struttura noi abbiamo dei minimi che sono crescenti, dei massimi che sono crescenti, c'è stato sì questo ribasso dovuto anche a una news, che però a mio avviso è stato un eccesso di volatilità, per questo sono entrato all'onda 72, e secondo me può ritornare a 79,80 dollari al barile, però staremo a vedere da qui alla fine del mese, anche qui ovviamente mi ha aiutato il forecaster, oh c'è un giro ribassista sugli indici, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, ma in questi giorni laterali è sempre meglio lasciar stare, gli indici vediamo cosa fa, vedete sul 5 minuti siamo sempre là, non è mica cambiato niente, sul Nasdaq c'è un primo accenno di ribasso, si può fare qui quanti punti? 10-20 punti, ma non mi va di shortare il Nasdaq, vediamo il Dow Jones cosa fa, magari vorrei trovare qualche trade per voi, se ce la faccio, vediamo vediamo, ma io lascerei perdere per il momento, allora come detto il petrolio secondo me ha buoni margini di risalita, sarà importante vedere la chiusura settimanale per capire se recupererà tutta la discesa della settimana precedente, e dopo il petrolio possiamo andare a vedere, allora Natural Gas chiede Samantha, Natural Gas chiede anche Pasquale, il Natural Gas ragazzi io vorrei ricordarvi che ripeto la stessa cosa da novembre 2023, che avevo detto che lo ripeto di nuovo, short, short, solo short, fino alla fine del mese di febbraio circa, adesso lo andiamo a vedere anche con la stagionalità, noi abbiamo preso lo short, una parte dello short l'abbiamo presa, poi siamo usciti con stop loss in pareggio qui, e io ero in vacanza e non sono rientrato, errore Riccardo, errore, qua era un'occasione chiarissima, comunque si scende, come ho ripetuto tante volte, secondo me il Natural Gas si fa un giro 1,7, 1,5 su questa zona qui, quindi rimane la mia view short, però insomma iniziamo a studiarlo, iniziamo a metterlo sotto osservazione, perché poi la stagionalità ribassista terminerà, e vedremo se ci saranno delle opportunità long, Samantha dice, infatti era impensabile ciò che dicevi, e invece è paro paro, eh sì, meglio sempre dice Antonio, non anticipare mai il gas a 1,70 potrebbe ripartire, staremo a vedere, staremo a vedere, in ogni caso anche quest'anno, anche il 2023, come il 2022, come il 2021, novembre è stato un, è stato l'inizio del tracollo, come è al solito, ma è un semplice, è un semplice ragionamento di domanda e offerta, quindi ricordatevi, novembre 2024, rifaremo la stessa cosa, studiando sempre la price action, i cimoku e la stagionalità, comunque, può scendere ancora 1,7, non fate questo, non fate il solito, non il solito a voi dico, però un errore che magari si fa, scusate, che si fa molto spesso e cioè, compro il gas perché è sceso tanto, è sceso tanto, quindi deve recuperare un po', no, questo può andare fino a zero, quindi direi che, c'è ancora spazio per scendere, quello che però noi dobbiamo fare è un'analisi completa, e quindi io non opero più senza questo software ragazzi, che è una cosa che non esiste al mondo, a livello di analisi, non tanto per le numerose funzioni che ha, perché è ovvio che su quello vince Bloomberg, ma per la semplicità delle informazioni che andiamo a ricercare, vi assicuro che Bloomberg è una giungla, assolutamente, cioè tutto ma molto molto complesso, invece qui a noi bastano poche informazioni, ma utili, e guardate che cosa è successo, vi ricordate che io da tutto settembre, ottobre ho detto natural gas, short mi raccomando novembre, ecco quello che è successo, ora siamo alla fine, siamo alla fine dei ribassi, secondo il forecast c'è un minimo importante, proprio domani, insomma in questi giorni, quindi avete delle posizioni short ancora da due punto, come avevamo detto 2,9, 2,91, 2,93, è il momento di chiudere le posizioni, è il momento di chiudere le posizioni, perché potremmo aver raggiunto un minimo importante, ma è il momento di aprire posizioni long? assolutamente no, perché potrebbe continuare a scendere, allora noi andiamo a fare un bella, andiamo a fare una bella analisi, andiamo a fare una bellissima analisi, e poi Matteo dice sul forecast è molto interessante il VIX, bravo, bravo, lo andiamo a vedere perché può aiutarci sull'operatività multi day sugli indici, ottimo spunto questo, detto ciò però andiamo a vedere con i cimoku e con il forecaster come possiamo uscirne da questo natural gas, allora siamo su dei minimi e quando andiamo ad analizzare il grafico, oltre a analizzarlo normale, dobbiamo anche analizzare la parte detrended, e che cosa notiamo? Che esattamente nello stesso punto abbiamo un possibile giro rialzista, o comunque la fine di un movimento che al momento è un movimento ribassista, quindi quello che voglio dire oggi 8 febbraio 2024, chiudete o valutate di chiudere gli short su natural gas, abbiamo preso tutto lo short, in realtà io no perché io a 2,2 ho chiuso la mia posizione o metà della posizione, insomma ho fatto il profitto da 2,9 a 2,2, non so se qualcuno di voi è riuscito a sfruttare ulteriormente degli short, ma è arrivato il momento di chiuderli definitivamente a mio avviso, poi valuterete voi. La cosa interessante però è che adesso noi dobbiamo cercare di capire qual è il momento per entrare long, andiamo a vedere se da questo minimo a questo massimo, le statistiche ci danno qualcosa di interessante, quindi da questo minimo di febbraio fino a questo massimo di marzo, di aprile, 17 aprile, vediamo. Long. Vi piacciono questi dati? No, mi fanno schifo, quindi non è il caso di valutare nuovi long. Andiamo ad aggiungere il 15 anni e anche il 20 anni per cercare di capire se cambia qualcosa con le statistiche. Allora, guardate qui, aprile, è importante guardare sempre il monthly average, aprile è un mese importante, marzo no, quindi occhio perché non ci sono statistiche interessanti qui. Quindi dobbiamo individuare un altro minimo per entrare. Ora vado a fare uno zoom, perché poi ritorniamo sul grafico, vado a fare uno zoom qui e che cosa vediamo qui? Vediamo che da dove parte eventualmente il possibile rialzo, lo vedete? Io l'ho visto, io lo vedo, eccolo, stiamo parlando del 29 di marzo. E dove ce lo portiamo? Dobbiamo fare una valutazione e cioè o ce lo portiamo dal 29 di marzo a questo massimo che è il eccolo qui, 18 di aprile e adesso vediamo le statistiche oppure poi tiriamo avanti e vediamo il picco successivo, il 5 maggio. Ora scendiamo, aprile. Allora, eccoci qui. queste sono delle statistiche già più interessanti per un long, quindi vedete come si dice eh no ma è troppo facile guardare il forecast, no, non è troppo facile, bisogna vedere le statistiche, i conti matematici. Negli ultimi 10 anni il 90% delle volte in questo tasso di tempo il natural gas si è apprezzato di tanto, di poco, c'è scritto, di una media del 10% perché si va da un 18 a un 8 e quindi facciamo un bel 10% di media ma ci sono stati anche dei drop importanti nel 2022 del 40% l'anno scorso del 16 insomma ma una media del 10 questo per dire che questo potrebbe essere un momento interessante per il natural gas quindi vedete quanto manca ancora? Lasciamo perdere perché se entriamo adesso poi tutto febbraio e tutto marzo che facciamo? Stiamo in lateralità, paghiamo lo swap oppure entriamo nel future e poi scade lasciate perdere aspettiamo aspettiamo marzo fine marzo entriamo come sono le statistiche invece se portiamo avanti fino a questo quest'altro picco qui? questo volevo vediamo se è meglio o peggio aspetta che allora ho una notifica da Yahoo Finance allora cioè da qua dove ho i miei titoli adesso voglio vedere cos'è perché sono due settimane che ogni giorno mi arriva sempre la stessa e cioè che invidia fanno i massimi vediamo ah no Coinbase Coinbase vediamo se si vede vabbè Coinbase più 8,83 non posso che esserne felice in ogni caso vediamo queste statistiche ragazzi qui 93,3 su 15 anni forse non l'ho mai vista probabilmente non l'ho mai vista non avevo guardato questa l'abbiamo vista insieme ringraziate chi mi ha chiesto il natural gas quindi ringraziate Samantha e ringraziate Pasquale e ringraziate Marco Antonio insomma tanti che me l'hanno chiesto guardate che roba 2803 0405 spettacolare questa roba qua si si e sapete che cosa faccio io vedete che abbiamo fatto questa analisi stellina nuova analisi favorita beh direi che più favorita di così non è possibile quindi molto bene per quanto riguarda aprile e per quanto riguarda questo trade però ricordiamoci che poi ci sarà anche agosto ma noi scusate arriveremo preparati anche ad agosto in ogni caso il trade sul gas è da fare ad aprile fine marzo questa è la mia opinione non dite eh no ma adesso sale entriamo non fatevi ingannare dalla volatilità del natural gas tenetelo sul time frame settimanale non scendete perché poi vi fate i casini e chi lo sa cosa succederà da qua alla fine di marzo a me sinceramente non interessa neanche può scendere a 1.5 a 0.5 a 1 io so che a fine marzo quando vedo un segnale long della price action entro long molto semplice e l'anno scorso abbiamo fatto così anche con lo short perché siamo entrati short da 2.9 il giorno 27 di novembre da qui abbiamo chiuso 2.2 vogliamo fare la stessa cosa ma long ma manca ancora un po' quindi aspettiamo come vi pare questa analisi sul natural gas bevo dell'acqua poi per perfezionare l'entrata ci aiuta i ichimoku sul giornaliero quello quello sì ora dobbiamo andare a studiare il dollaro americano e insomma un altro po' di cose di cose Antonio dice pare eccezionale veramente Matteo ottima analisi Samantha e Greggia come sempre Stefano dice brava Samantha benissimo quindi il gas abbiamo qui stampato l'abbiamo inserito nel meccanismo e aspettiamo la pazienza serve in questi casi ma qualcuno qui bravo chi è Matteo Matteo ha detto di andare a vedere il VIX che adesso vi spiego che cos'è e Matteo guarda qua io ce l'ho già pronto salvato dall'anno scorso l'ho salvata questa analisi vediamo adesso vediamo allora il VIX è l'indice della volatilità quindi quando la volatilità è bassa l'indice VIX è molto basso quando la volatilità aumenta l'indice VIX schizza le stelle e quindi è importante analizzare anche il VIX per cercare di capire quando posizionarsi short sugli indici perché perché il VIX parte su come un razzo quando quando ci sono i sell off su tutte le borse quindi quando ci sono i ribassi generalizzati su tutte le borse si crea un po' di paura infatti si chiama l'indice della paura e il VIX parte come un razzo di spacex verso lo spazio quindi noi dobbiamo vedere che cosa fa il VIX ma io ce l'ho già pronto quindi clicco qui vedete tac e ce l'ho allora io ora cancello tutta questa diciamo perché io ho fatto l'analisi del VIX short non quella long su questa zona e vorrei e Matteo indicarti queste due date 1503 1804 per lo short short di VIX ma di questo ne parleremo successivamente se io cancello andiamo insieme a vedere che cosa può succedere al VIX a febbraio perché potrebbe esserci una sparata verso l'alto del VIX a febbraio di conseguenza febbraio marzo e quindi attenzione con un aumento drastico della volatilità gli indici potrebbero scendere ora andiamo a vedere cosa succede dal 16 di febbraio fino a questo picco qui pazzo del 15 di marzo un mese un mese giusto vediamo andiamo sul long e qui è già più interessante un long vedi ma non è tanto interessante quanto poi lo short quindi nonostante tu qui dai grafici abbia visto vado a togliere magari anche qualche stagionalità così lo vedi meglio tu abbia visto questo questo forte rialzo a livello statistico non è così avvincente come per lo short ovviamente qui ci sono dei ritorni stratosferici però voglio andare a vedere anche il detrended Samantha dice su questo strumento sono ignorante l'ho sentito nominare anche da Presco ma non c'è su Kimmer ma non bisogna tradare il VIX assolutamente bisogna analizzare il VIX per tradare sugli indici quindi l'indice della volatilità quando la volatilità sui mercati aumenta il VIX sale di solito quando aumenta tanto è perché i mercati scendono non perché salgono quindi il VIX sale quando i mercati scendono ora da qui a qui abbiamo detto che non ci sono delle statistiche strabilianti per i long quindi è vero che gli indici potrebbero beh non male quindi è vero che gli indici potrebbero scendere sì in questo periodo 14.02 13.03 insomma in questo mese e quindi io direi di fare molta attenzione perché possiamo come detto in precedenza andare a posizionarci short sugli indici abbiamo fatto l'analisi tecnica e grafica prima ok benissimo ora vediamo di andare avanti andiamo a vedere GBP no andiamo a vedere il dollar index oh per capire cosa fare col dollaro allora dollar index che è l'indice del dollar americano quindi dove può arrivare il dollar index e qui abbiamo la nostra strategia con il nostro target indicator che ci dice tutto quindi blue tracciamo ok intanto c'è il Dow Jones che si sta sfracellando allora target dove lo prendiamo questo ok lo prendiamo da qua quindi impulso il ritracciamento eccoci qui 17 periodi target molto vicini qui 104 e 50 e target finale 105 e 50 quindi il trend è rialzista sul dollaro tra l'altro l'avevamo detto più volte che si poteva iniziare a salire a partire dal mese di febbraio come tra l'altro ci diceva il forecaster e adesso andiamo a vedere e secondo me il dollaro può continuare a salire 104 e 50 per il prossimo target se i 104 e 50 vengono rotti secondo me non arriviamo solo a 105 ma anche a 105 e 50 e quindi come facciamo a sfruttare questa cosa entriamo short su euro dollaro piuttosto che su gbp usd piuttosto che su audi usd insomma dobbiamo individuare l'altra valuta più interessante da vendere contro il dollaro americano quindi andiamo a vedere una cosa sempre qui per capire US dollar si chiama che non mi ricordo sì eccolo qua dollar index stagionalità l'abbiamo detto l'abbiamo detto tante volte io l'ho ripetuto molto spesso del long su a febbraio sull'indice sul dollar index perché guardate il mese di febbraio 100% negli ultimi 5 anni negli ultimi 7 100% 80% negli ultimi 10 73% negli ultimi 15 quindi diciamo che fino a metà marzo qui il dollaro può apprezzarsi e torna tutto perché comunque se un dollaro si apprezza tanto solitamente se il dollaro si apprezza tanto ne risente un po' l'equity la volatilità aumenta con il VIX e quindi torna tutto gli indici dovrebbero scendere ma chi lo sa se scenderanno oppure no però dobbiamo avere almeno un'idea di quello che può succedere nel prossimo periodo quindi adesso se volete vi faccio anche la statistica da questo minimo come avevo già fatto in precedenza però l'andiamo a tracciare fino a dove era fino a qui fino a qui fino a qui fino a qui era abbastanza bene sì sì molto bene il buon dollar index quindi noi che cosa dobbiamo fare come detto dobbiamo andare su euro dollaro o su gbp usd a posizionarci short molto interessante gbp usd secondo me con uno short anche da qui o comunque nella zona compresa tra il 38.2 e il 61.8 di fibonacci dopo aver preso questo impulso questa sì dopo aver preso questo impulso ribassista se i prezzi non tornano sopra gli 1.27 secondo me gbp usd è short anche euro dollaro è short affinché non recupera gli 1.09 quindi su ogni rimbalzo come oggi noi siamo già short in realtà qui insomma manteniamo la nostra view short il gold mi piace meno perché è laterale quindi non voglio neanche guardarlo quest'oggi siamo short anche su nz di usd molto molto interessante tra l'altro vado ad aggiungere l'indicatore target indicator ecco qui vedete abbiamo tracciato l'impulso da 0.6277 ritracciamento continuazione dell'impulso obiettivo 0.59 50 0.6 insomma tutta questa zona evidenziata in blu secondo me è una zona che può essere aggiunta dal prezzo e che quindi dobbiamo monitorare per il momento sono short anche se è ancora un po' in perdita però la teniamo d'occhio bene nz di usd abbiamo preso un target fantastico in realtà qui potevo anche lasciar correre su gbp yen però l'ho spiegato anche questa mattina nel gruppo telegram perché per come però se avete fatto il corso era un trade chiarissimo questo non so se qualcuno di voi l'ha fatto fatemi sapere impulso guardate qui impulso vado a prendere anche il pennino dov'è che è eccolo qua impulso ritracciamento can hammer rialzista chiaro come una casa la grande come una casa e quindi io qui sono entrato più o meno eh to qui sono entrato long primo target massimi precedenti poi io qui ho chiuso tutto ma ricordo che come detto anche questa mattina se rompe 188 188 secondo me arriviamo dove 191 e 40 quindi c'è ancora spazio al rialzo ci sono 300 punti quindi molto molto bene gvp yen e questo è quanto ragazzi sì abbiamo anche long di euro di dove può arrivare anche qui siamo long vediamo sì 1,67 molto interessante vediamo se prosegue l'euro contro il dollaro australiano però il primo target l'abbiamo raggiunto e niente abbiamo visto tutto direi aspettiamo questi short sugli indici che per il momento però non sa da fa 75,50 il petrolio molto molto bene e niente direi che per oggi abbiamo visto tutto io rinnovo poi l'invito al corso che faremo nuovo insieme a Vincenzo che parte proprio la settimana prossima dalle ore scusate parte la settimana prossima dal 13 di febbraio quindi martedì prossimo e ancora in sconto del 50% perché aggiungeremo quindi un altro tassello al nostro trading di posizione io per oggi ho detto tutto grazie mille ragazzi grazie mille per la partecipazione per le numerose domande continuate così che io sono contento buona giornata e buon trading l'invito